È un onore per Roma 3 accogliere una figura come il professor Di Sivo in questo ambito per la delicatezza dei suoi studi, in particolare i suoi ultimi studi di cui parlerà sul memoriale di Aldo Moro, uno dei grandi misteri dell'Italia. D'altra parte questo corso, l'abbiamo sempre detto, deve aiutare tutti noi, lo studente tutti noi a capire il presente a partire dal passato, ma come fare quando il passato è oscuro? Come può un passato oscuro illuminare il presente? Credo che dietro la lezione, dietro tutta la ricerca del professor Di Sivo ci sia questa domanda. Per questo lo ringrazio ancora di essere qui con noi. Grazie. Grazie, grazie, grazie rettore, grazie. Fa piacere anche a me poter raccontare agli studenti le cose che hai appena accennato. Manfredi, volevi… Allora, io faccio una piccolissima introduzione perché credo che non sia il caso di anticipare io i contenuti perché immagino conoscendo Michele che lavora proprio a partire dai documenti che piano piano usciranno nella sua analisi, nella sua lezione. Quello che vi posso dire è che Michele Di Sivo è professore di archivistica, è direttore e coordinatore dell'archivio di Stato di Roma, è laureato in storia moderna e questo per me è un piacere particolare, insegna da noi da diversi anni e quindi è, diciamo, non solo un amico ma proprio un membro delle nostre attività sia di docenza che di ricerche. Questo ci riempie di gioia e poi oltretutto è una persona fantastica come avrete modo di scoprire piano piano, non soltanto in questa ricerca. La proposta che è stata fatta per questo corso ruota attorno a uno dei grandi momenti di snodo della vita politica e pubblica italiana, della democrazia italiana, possiamo dire chiaramente. Forse voi, diciamo, ne avete meno l'evidenza, ma qualcuno che ha qualche anno più di voi vi si renderà perfettamente conto e su questo hanno scritto per esempio tanti autori, ricito fra i più recenti, Miguel Gotoro e Marco Damilano, di come questo sia stato un momento che ha segnato profondamente quello che è successo. C'è un prima e un dopo rispetto ai diversi momenti di questo caso Moro e Michele ce lo spiegherà molto bene e quello che credo che sia importante ricordare è che qui non si tratta di una lettura politica, non è un'analisi politica, è un'analisi delle fonti e poi lo storico a partire da quello che costruisce attraverso la lettura delle fonti offrirà un materiale per una ulteriore lettura che poi spesso viene a rimbalzare nelle sedi politiche e quindi, diciamo, è importante dirlo perché questo corso non è dedicato agli studenti di storia, ma a studenti che non fanno storia normalmente e quindi ci può essere un po' di confusione fra questi piani. L'inserimento di questa, diciamo, di questa lezione così, diciamo, dedicata esplicitamente al rapporto tra fonti e costruzione della narrazione storica e loro interpretazione l'abbiamo proprio scelta anche perché Michele insegna anche metodologia e fonti, ha insegnato anche metodologia e fonti della ricerca storica come me e quindi abbiamo questa ulteriore passione in comune. Prego Michele, scusami per aver allungato un pochino questa presentazione. No, figurati. Ti ringrazio Manfredi, ti ringrazio e spero che mi sentano bene tutti. Se naturalmente ritenete, intervenite, io parlerò di cose che probabilmente daranno anche per acquisite certe conoscenze, quindi vorrei anche se possibile, nei limiti del possibile, visto il modo in cui facciamo la lezione, date le circostanze, fare il più possibile una lezione interattiva con voi, quindi non preoccupatevi di anche a volte interrompermi, ma se ci fossero passaggi appunto non chiari, intervenite e poi magari possiamo dedicare anche alla fine uno spazio per degli approfondimenti o per delle domande. Bene, ecco, proprio il fatto che io sono di fronte a studenti di discipline che definiamo scientifiche, mi ha fatto dare al titolo di questa lezione, come dire, un doppio titolo. Voi avete visto che la lezione di oggi si chiama, è composta di due parti, che sono il rapporto di genere a specie, diciamo, ecco, cioè interrogare le fonti e poi il caso del memoriale scritto da Aldo Moro durante i 55 giorni del sequestro. Quindi mi dedico all'inizio alla prima parte del titolo, perché noi non possiamo definire scientifico un percorso solo in base all'oggetto del percorso stesso, cioè non è scientifico un discorso solo se si occupa dei corpi celesti o delle molecole o delle cellule di un organismo, cioè insomma non è scientifico soltanto un percorso in base all'oggetto di destinazione, un percorso di studi è scientifico in base alla metodologia e quindi quello è il discriminante che fa sì che un percorso di ricerca possa essere definito scientifico o meno. E da questo punto di vista, da questo punto di vista, le discipline umanistiche, la ricerca storica deve costruire un percorso scientifico. E quindi se questo è vero, cioè se il nesso sta nella metodologia, allora questa metodologia deve avere dei percorsi chiari anche nelle discipline scientifiche di carattere storico, nella ricerca storica. Noi abbiamo iniziato questo bellissimo corso, l'unica lezione diciamo frontale che è stata fatta con un contatto fisico è stata la prima, quella con Andrea Giardina, penso che ci fosse tutti quanti, il giorno o molti di voi, il 2 marzo, e la domanda dalla quale è partito Andrea Giardina è stata a che serve la storia. Ecco, io non ho seguito le altre lezioni di questo corso, non so se altri docenti abbiano fatto il riferimento che sto per fare io, ma a che serve la storia, ovvero la frase papà dunque dimmi, ma veramente a che serve la storia, è un incipit molto famoso, importante, che penso tutti gli storici conoscano, è l'incipit di un manoscritto che poi è diventato un libretto pubblicato postumo di un grande storico, di uno storico che si chiama Mark Bloch e che ha scritto una sua cosiddetta Apologia della storia, che si chiama così, Apologia della storia o un mestiere di storico, che è stato pubblicato dopo la sua morte, lui fu ucciso nel 44 in un campo di prigionia, Mark Bloch era ebreo. Ecco, scrisse questo manoscritto che comincia così, papà dunque a che serve la storia? Ed è la sua una risposta che mette al centro la ricerca sulle fonti, che non sono le fonti che nascono per essere testimonianza storica. Le vere fonti di uno ricercatore non sono quelle che nascono perché poi siano conosciute dagli storici o perché siano conosciute dai posteri, le vere fonti di un percorso scientifico sono quelle che non nascono per questo, sono quelle che Mark Bloch definiva i testimoni loro malgrado, cioè lo storico deve saper cercare i testimoni loro malgrado, cioè non quello che volevano dirci i testimoni, ma quello che non volevano dirci o insieme quello che volevano dirci e quello che non volevano dirci, cioè quello che ci dicono. Dice Mark Bloch che la storia non è soltanto ricostruzione del passato perché ci faccia capire qualcosa sull'oggi, come diceva poco fa il rettore, come si fa a capire qualcosa del passato e soprattutto se questo passato è oscuro. Bene, dice Mark Bloch che non è vero che il passato è fermo, che il passato è passato, ma il passato cambia, il passato cambia perché cambiano gli strumenti con i quali lo si osserva. Esiste dunque anche nella ricerca storica un principio che i fisici conoscono bene, e cioè un principio di indeterminazione, ovvero l'oggetto che noi studiamo dipende dall'occhio dell'osservatore, è condizionato dall'osservatore. E quindi in questo senso il passato cambia. Cambia perché possono cambiare le fonti che noi troviamo sul passato e anche può cambiare il modo in cui noi quelle stesse fonti le interpretiamo. Fino a 50 anni fa il Medioevo era un secolo buio, oggi sappiamo che non è così, ma sempre Medioevo era, cioè sempre quello è il periodo, ma sappiamo che non è affatto un secolo buio, perché abbiamo scoperto fonti sconosciute e abbiamo anche scoperto nuovi modi per comprendere quelle stesse fonti per cui ci si sono aperti degli spaccati di società medievale e moderna che per noi erano assolutamente imprevedibili e sconosciuti, ma che però possiamo ricostruire attraverso fonti attendibili, ovvero attraverso documenti che nascevano per la vita pratica, per la vita stessa delle comunità e degli esseri che ci vivevano. Quindi per questo interrogare le fonti, cioè il passato, anche il passato più oscuro, può cambiare. Può cambiare in base alle fonti che noi conosciamo. Ecco perché anche un passato oscuro può illuminarti, perché può cambiare persino il nostro modo di vedere le cose. Naturalmente il tempo è importante e quindi più i fatti si allontanano dalla memoria individuale, più le possibilità di comprenderli come fenomeni della storia umana è più facile, è più possibile, diciamo, più che più facile. Ci sono degli strumenti in più. Perché, come diceva lo stesso Andrea Giardina nella prima lezione, c'è una bella differenza fra la memoria e la storia. La memoria è fondamentale, ma la memoria è una ricerca di eventi del passato che siano funzionali alla nostra identità. E quindi l'identità nasce prima della ricerca, prima viene la necessità dell'identità e poi si vanno a cercare gli eventi che siano funzionali a questa identità. Ma questa non è ricerca storica. La ricerca storica deve fare un percorso che tendenzialmente ricostruisca i condizionamenti, le condizioni, le ragioni, non le origini, perché origini causali non esistono, dice lo stesso Bloch. Ma la ricerca storica consiste nel far parlare le fonti e quindi nel saperle interrogare, quindi saper fare le domande giuste alle fonti. Quindi sia per motivi di memoria e sia per motivi, quando gli eventi sono eventi che producono degli effetti immediati, potenti, anche degli effetti di natura politica, poterli osservare con la libertà della conoscenza scientifica è un fenomeno, è un fatto molto complesso, perché sono fortemente condizionati. e quindi noi possiamo avere delle difficoltà anche a studiare o a ristudiare eventi accaduti molti anni fa, se questi ancora producono degli effetti. Possono produrre degli effetti pratici, degli effetti politici, degli effetti addirittura giudiziari, come nel caso di cui parleremo adesso. E tutto questo ovviamente soffoca, rende asfittico un percorso scientifico, perché un percorso scientifico è un percorso libero. Ecco, esiste un nesso stretto fra la scienza e la libertà. Direi quasi che non può esistere vera scienza senza libertà. Ma la libertà non è solo un diritto civile, la libertà è anche libertà da condizionamenti ideologici, libertà da condizionamenti di interessi economici, di interessi giudiziari, che ovviamente opacizzano e offuscano la possibilità di interpretazione. E quindi cercare le fonti e interrogare le fonti senza schemi è un percorso molto complicato. Più l'oggetto del nostro studio produce effetti ed è legato a interessi, più complicato è questo percorso. Quindi occorre liberarsene. Ecco, in questo senso ho voluto per questo anche scegliere il documento di cui parleremo oggi per varie ragioni. Perché legate proprio a questa premessa che vi ho fatto. Perché? Certamente perché, come diceva il rettore Luca Pietromarchi, come diceva Manfredi, è uno delle cose ultime che ho fatto. È un percorso di cinque anni, ovvero una ricerca che ho diretto con un gruppo di lavoro per ben cinque anni e che oggi ha dato i suoi esiti in un volume che è appunto l'edizione critica del Memoriale. Quindi certamente lo propongo perché è un lavoro che ho appena concluso. Ma non è questa la vera ragione per cui ho scelto questo argomento. Perché avrei potuto scegliere anche altre fonti molto delicate, non proprio come questa, perché ho scelto quella forse più difficile di tutte, la più delicata di tutte, però avrei potuto sceglierne altre. Ma perché ho scelto questa? Perché questo è un esempio proprio classico, perfetto, del rapporto che ci può essere fra un difficile percorso scientifico e la delicatezza di un documento che è ancora sanguinante, è ancora un documento potente, è ancora un documento, nonostante i 42 anni passati da quando è stato scritto, è ancora un documento che produce effetti forti, persino ancora giudiziari e può produrre ancora degli effetti politici. e quindi la metodologia, un percorso scientifico su un documento che è ancora vulcanico, che ha ancora dentro di sé il fuoco, ve lo assicuro anche soltanto maneggiandolo, anche soltanto mettendolo insieme alle altre fonti di cui adesso vi racconterò, si capisce quanto e perché questo documento ha la potenza che ha e perché dopo la morte di Moro e dopo l'assassinio di Moro altre persone hanno perso la vita anche in seguito ai contatti, al rapporto con questo documento. E quindi fare scienza, cioè costruire un percorso scientifico su un documento così difficile, così appunto bruciante, è un esempio proprio di questa libertà di scienza. Più difficile è il documento, più necessaria è questa metodologia e quindi mi sembrava un esempio perfetto da proporre sia agli studenti di storia, sia chiaro, ma anche a voi in particolare in questa situazione mi sembrava un esempio di come si possa fare un percorso scientifico su un vulcano, anzi dentro un vulcano. Ecco, quindi io non parlerò soltanto dell'episodio di cui stiamo parlando, dell'evento di cui parleremo, cioè appunto il sequestro e l'assassino di Aldo Moro, ma delle scritture di Moro. E il fatto che le scritture di Moro siano al centro del sequestro Moro, già di per sé questo significa qualcosa. Intanto insomma credo che tutti voi sappiate più o meno di cosa parliamo, ma forse per inquadrare questo documento e per capire l'importanza di questo documento, e poi capirete anche di che cosa si tratta, quelli di voi che non conoscono questo argomento vi spiegherò di cosa si tratta e poi come vi ho detto all'inizio anche fatemi le vostre domande e quindi approfondiremo perché si tratta di una delle questioni storiografiche anche più complesse e del documento, lo dico senza tema di smentita, più criptico, difficile e nello stesso tempo potente della storia della Repubblica italiana, almeno della storia repubblicana, sia per il documento in sé e sia per il modo in cui è stato recuperato. Quindi sia per il modo, non soltanto quindi per il documento della storia relativa al sequestro Moro, ma anche per la storia del documento, cioè questo documento ha una sua storia. E anche la storia di questo documento, di cui noi non conosciamo l'originale, e già questo è un fatto significativo, perché non è mai stato individuato l'originale, ma soltanto le fotocopie fatte dalle Brigate Rosse, quindi noi studiamo le fotocopie, prima di intervenire, prima di addentrarci sul senso di questo documento, su come si possa costruire un percorso scientifico su un documento come questo, è bene un quadro generale. Noi stiamo parlando del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, che come sapete è avvenuto nel 1978. Il sequestro di Moro avvenne il 16 marzo del 78, la mattina del 16 marzo del 78 e a quella giornata seguirono 55 giorni terribili di sospensione dell'attività ordinaria e istituzionale dello Stato italiano, e si conclusero il 9 maggio del 1978 con l'assassinio di Moro, dopo che il 16 marzo era stata trucidata l'intera sua scorta composta da cinque uomini. Quindi siamo al 7 maggio, oggi tra due giorni sarà il 42esimo anniversario dell'assassinio di Moro. Questo lungo periodo non è soltanto un evento. Ecco, a proposito di Marc Bloch e della scuola francese e della storiografia che viene da quella scuola, beh, una distinzione chiara che Marc Bloch faceva e che quella nuova storia basata sulle fonti e sui testimoni loro malgrado costruiva, era la distinzione fra la storia dell'evento e la storia di lunga durata. Noi a volte possiamo studiare degli eventi, capirne se non le cause, le concause, ma si tratta di eventi, cioè comportamenti umani che si svolgono in uno intervallo di tempo e in uno spazio delimitato. Ma esiste invece anche una storia profonda, cioè esiste una storia della lunga durata, ovvero una storia che legge con un occhio dinamico decenni, anche secoli, in questo caso decenni, che vanno visti nel loro insieme. Soltanto se li vediamo nel loro insieme possiamo capire l'evento, perché l'evento è la punta dell'iceberg di un percorso di lunga durata. Quando l'evento concentra in sé tutta una lunga durata, allora quell'evento è un vero sisma in una società come è stato appunto il rabbimento e l'assassino di Moro, che quindi non è solo un evento, ma è non il risultato. Ecco, chi di voi studia fisica, ma chiunque abbia fatto il liceo scientifico sa qual è la differenza fra il concetto di risultato e il concetto di risultante. Ecco, tutti quei 55 giorni del rapimento e quindi poi dell'epilogo tragico di quel rapimento non è il risultato di cause singole, ma è la risultante di un movimento molto profondo che risale a tempi molto più lontani, almeno fino alla Costituzione, alla elaborazione, alla promulgazione della Costituzione italiana. Non possiamo comprendere fino in fondo il rapimento Moro se non facciamo questo percorso e non possiamo neanche comprendere il memoriale se non facciamo questo percorso. Perché? Perché il memoriale è la metà degli scritti di Moro durante il sequestro. Noi non sappiamo neanche bene quanti fogli abbia scritto Moro durante il sequestro, perché ora vi racconterò poi tutta la vicenda e come siamo venuti a conoscenza di tutto questo, ma vi anticipo che noi siamo a conoscenza di almeno 500 fogli scritti da Moro durante il sequestro e non soltanto delle otto lettere che uscirono durante il sequestro. Di questi 500 fogli almeno 230 sono il memoriale, che non sono lettere, biglietti e testamenti, ma sono, diciamo venivano considerati alcuni anni fa, ma lo studio che abbiamo fatto dice qualcosa di più, venivano considerati, vi dirò cosa, venivano considerati le risposte all'interrogatorio che il cosiddetto Tribunale del Popolo delle Brigate Rosse inflisse a Moro. Quindi sono le risposte alle domande che nel processo cosiddetto del Popolo le Brigate Rosse fecero a Moro, quindi Moro scrisse queste risposte. In realtà non è solo questo, noi abbiamo scoperto in questi cinque anni di lavoro che in realtà Moro scrisse anche i suoi appunti, le sue riflessioni durante i 55 giorni. Questo testo, dentro un corpus più ampio, ha per oggetto i 30 anni della storia italiana, cioè è un documento nel quale Moro scrive della storia italiana dei 30 anni precedenti. Perché? Sia perché le domande erano relative ai 30 anni precedenti e sia perché anche la sua riflessione era fatta sui 30 anni precedenti anche per comprendere il suo stesso rapimento, cioè per inquadrare il suo stesso rapimento dentro quei 30 anni, capite? Quindi il memoriale è come una sorta, dal punto di vista formale, è come una sorta di testo dentro il testo, è come una sorta di mille e una notte, cioè qualcuno che inizia dal suo rapimento, racconta del suo rapimento, cerca le origini, le matrici di questo rapimento per farlo parte dal 1945 e torna alla fine al suo rapimento come parte finale di questo trentennio. E quindi ricominciando dall'inizio, ecco, è un testo da questo punto di vista gigantesco, è un testo anche dal punto di vista letterario impressionante, no? Perché ha questa ciclicità, è un testo indefinito e infinito. Allora, per comprenderlo non si può prescindere dai 30 anni che precedettero il 78 e quindi dal 48 al 78 e il 48, il 47-48, il 1947-48, è proprio l'anno in cui la nostra Costituzione viene promulgata e comincia ad essere agita, cioè comincia ad essere applicata, quindi lo stesso Moro parte dalla Costituzione. Ora io non vi farò certamente la storia italiana dal 47-48 al 78, ma è importante, è importante però inquadrare questo sia per comprendere qualcosa del rapimento e dell'assassino di Moro e degli effetti che ebbe sulla nostra storia e sulla storia italiana, che è cambiata profondamente, come è stato detto poco fa, sia dal lettore che da Manfredi Merluzzi, cioè un prima e un dopo. Quindi la nostra storia si è spostata come una zolla spostata da un terremoto, si è spostata in modo immodificabile, poi non più recuperabile, e quindi la storia del paese nel quale noi oggi viviamo deriva da quella sisma. E quindi per questa ragione comprendere l'insieme è importante, perché lo ha fatto Moro, perché lo ha fatto in questo stesso memoriale, e anche perché il rapimento di Moro sembrerebbe, apparirebbe soltanto, tra virgolette, un atto di terrorismo di quegli anni, e invece non è così, o non è soltanto così, non può essere soltanto così, perché Aldo Moro era un uomo che noi potremmo anche definire dentro il potere italiano sin dal 1947-48. Aldo Moro è stato presidente del Consiglio dal 1963 fino al 1968, poi è stato di nuovo presidente del Consiglio dal 1974 al 1976, e poi è stato ministro degli esteri per moltissimi anni, e prima era stato ministro della giustizia, e ministro della pubblica istruzione, è stato segretario della democrazia cristiana, che era il partito di maggioranza, e che è sempre stato il partito di maggioranza fino agli anni Ottanta. E si trattava quindi di un nuovo politico di primo ordine, un capo politico della democrazia cristiana, e uno dei gangli vitali, importanti della politica italiana ed europea, cioè un uomo che ha avuto anche un grosso, un grande rilievo dal punto di vista della politica internazionale. Quindi rapire e tenere segregato per 55 giorni un uomo così, e quindi un uomo che per esempio conosceva benissimo i servizi segreti italiani, essendo stato ministro degli esseri, e avendo partecipato anche alla riforma dei servizi segreti che fu fatta nel 1977, quindi poco prima del suo rapimento con il governo Andreotti, che era appunto un governo che aveva al suo interno anche una maggioranza ampia, cosiddetta di solidarietà nazionale. Quindi rapire e tenere 55 giorni un uomo così non è un rapimento e basta, si tratta di un'operazione politica. Quindi si tratta di un attentato a una autorità dello Stato e che a differenza di altri attentati che noi conosciamo nella storia italiana, nella storia europea, nella storia mondiale, ha però una caratteristica che altri attentati al sovrano non hanno mai avuto. Dall'assassinio di Giulio Cesare fino all'assassinio di John Kennedy, un uomo politico di quella portata non è mai stato ucciso così, perché gli attentati a politici di questo tipo vengono fatti uccidendoli immediatamente. Rapire e tenere 55 giorni un uomo di questo livello è un'operazione molto molto complessa che infatti non è mai accaduta, sono avvenuti i rapimenti di magistrati, di personaggi importanti, era avvenuto in Germania poco prima il rapimento di Hans Martin Schleyer che era il capo della Confindustria tedesca e che era durato diversi giorni, ma non un capo politico, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, uomo di primo livello dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato e poi ucciso a distanza di 55 giorni. Quindi l'operazione aveva non soltanto l'obiettivo di uccidere questo personaggio politico, ma anche invece una gestione di questo personaggio politico all'interno di una prigionia che gli fu inflita. Quindi un attentato molto complesso e di natura diversa dall'attentato all'uomo sovrano che nella storia abbiamo più volte avuto e conosciuto. E quindi gli scritti di Moro che avvennero durante i 55 giorni sono protagonisti di questo sequestro, furono proprio elemento centrale di questo sequestro e probabilmente anche uno degli obiettivi far uscire o utilizzare questi scritti all'interno del sequestro, cosa che non sarebbe stata possibile se fosse stato ucciso il 16 marzo. Quindi Moro, appunto, dicevo, è stato questo. Ed è stato anche uno degli uomini che hanno scritto la Costituzione. Moro ha partecipato all'Assemblea Costituente, eletta nel 1946, il 2 giugno del 1946, cioè a quell'Assemblea che ci ha dato la Costituzione che ancora oggi vige nel nostro paese, una Costituzione molto avanzata che fu il frutto degli anni immediatamente precedenti e quindi che fu l'esito della fine della seconda guerra mondiale, della sconfitta del regime fascista e quindi di quel Parlamento che fu eletto nel 1946. Moro allora aveva 29 anni, era molto giovane e partecipò alla Commissione dei 75. La Commissione dei 75 è fatta dai progenitori, dai genitori della nostra Costituzione. Sono loro che l'hanno scritta. Quindi Moro ha partecipato alla elaborazione della Costituzione, in particolare della prima parte della Costituzione, quella che si riferisce ai diritti civili e ai diritti dell'individuo. Ha elaborato quella parte e della Costituzione ha sempre avuto una idea inclusiva. La nostra Costituzione è una Costituzione che vide la partecipazione di tutte le formazioni politiche che parteciparono alla Resistenza, quindi dal Partito Liberale al Partito Comunista e perciò con dentro i cattolici, i socialisti, libertà e giustizia, i repubblicani, quindi laici, cattolici, socialisti, comunisti, liberali, questa grande ricchezza di componenti che hanno costruito una Costituzione altrettanto ricca, che mette al primo posto i diritti dell'individuo. Non a caso la prima parte della nostra Costituzione è costruita per insiemi, il primo elemento è quello dell'individuo e poi man mano fino ai diritti della collettività, ed è una Costituzione di natura inclusiva, cioè costruisce tutti gli strumenti perché dalla società possano venire soggetti che poi possano entrare dentro le istituzioni. Questa era la logica anche di Moro, che però non è stata una logica poi seguita sempre negli anni 50, 60 e 70, per varie ragioni, per varie ragioni molto complesse che non posso spiegare qui, ma fu una posizione, quella di Moro, che si distinse da quella di altri personaggi e di altre forze politiche anche all'interno del suo partito. Questa differenza fu anche al centro del governo del 63 e 64, che è un governo molto importante di cui Moro parla nel memoriale, cioè un governo di centrosinistra, il primo governo che ebbe al suo interno il Partito Socialista e di cui poi si seppe nel 67 che fu oggetto di quello che fu definito anche un tentativo di colpo di Stato, il cosiddetto caso Sifar. Quindi Moro fu già allora oggetto di uno scontro interno agli apparati. poi seguì questo governo, ci fu poi una seconda versione di quel governo, ma dietro però questa forte pressione che venne da apparati militari e appunto dal Sifar, che era il servizio segreto dell'epoca e Moro ne parla appunto nel memoriale. Questo percorso di Moro è continuato fino al 76, quando è finito il suo ulteriore governo, 74-76, e quando con le elezioni del 20 giugno del 1976 il Partito Comunista raggiunse il 34% dei voti e la democrazia cristiana il 37,5-38% dei voti. Quindi una situazione nell'ambito di un quadro europeo condizionato fortemente dalla guerra fredda, una situazione in cui due partiti importanti, la democrazia cristiana e il Partito Comunista, non potevano né governare insieme né governare separati, né governare separatamente. Quindi un punto di crisi della storia del nostro paese acuto, molto complesso da risolvere, perché i riferimenti internazionali, nonostante il percorso del Partito Comunista di autonomia rispetto all'Unione Sovietica, tuttavia anche questo aveva creato dei conflitti non indifferenti tra il Partito Comunista italiano e l'Unione Sovietica, e i riferimenti invece atlantici, che da De Gasper in poi erano i riferimenti diretti della democrazia cristiana, portavano a una impassa politica drammatica che consisteva appunto nel non poter governare né insieme né separatamente. La fuoriuscita da questa crisi fu una fuoriuscita elaborata da Moro, cioè fu lui che continuò quella che nel 1969, lui stesso, tenete ben presenti le date, sono molto importanti, nel 1969 Moro parlò di strategia dell'attenzione, strategia dell'attenzione significava una strategia che guardasse alle forze che venivano dalla società, che dal punto di vista suo e della Costituzione, proprio perché grandi forze di massa che provenivano dalla società, dovevano avere un ingresso nelle istituzioni e un ingresso nel governo, perché il ragionamento di Moro era quello della Costituzione inclusiva, a prescindere dagli equilibri internazionali, sapeva benissimo che erano equilibri delicati, ma quella era la situazione italiana, questo è il tempo, diceva lui, cito tra virgolette, questo è il tempo che ci tocca vivere e non possiamo prescindere dal tempo che ci tocca vivere e quindi il tentativo di un governo che potesse vedere anche la partecipazione del Partito Comunista fu messo in piedi da Aldo Moro, ma in un modo che era coerente con tutto il suo percorso precedente e quando nel 1978 questo governo che non vedeva la partecipazione diretta del Partito Comunista, ma soltanto una astensione nel voto di fiducia, arrivò invece a una crisi nel 1978 e questa crisi fu risolta con un passettino ancora in avanti, senza però consentire l'entrata nei gangli vitali del governo del Partito Comunista. L'entrata di un partito dentro il governo significa conoscere il Ministero dell'Interno, significa conoscere il Ministero degli Esteri, significa conoscere i servizi segreti, significa entrare nei piani della forza di riferimento, che era la forza della Nato, la forza militare di riferimento, quindi significa entrare in questo tipo di gioco. Il Partito Comunista fu tenuto ancora fuori, ma il governo che si preparava ad essere approvato appunto il 16 marzo del 78 era un governo che vedeva la partecipazione del Partito Comunista solo come voto favorevole alla maggioranza, cioè al voto di fiducia, ancora si trattava di un governo fatto di ministri totalmente democristiani, quindi si chiamava allora un monocolore dal punto di vista della composizione ministeriale. Fu in quello stesso giorno, il giorno in cui doveva essere votata la fiducia in Parlamento a questo governo guidato da Andreotti che Moro fu rapito la mattina stessa mentre andava appunto in Parlamento. L'andare in Parlamento, ricorda un po' Matteotti che andava in Parlamento quel giorno di giugno del 1924 nel quale fu anche gli rapito e però ucciso immediatamente, a differenza di quello che apparve perché fu ritrovato poi soltanto nell'agosto. Anche Moro andava in Parlamento, questa interruzione del percorso di un uomo che aveva scritto la Costituzione che andava verso il Parlamento ha una sua anche forza simbolica molto importante e questo percorso verso il Parlamento fu violentemente, cruentemente, sanguinosamente fermato. L'equilibrio così delicato che Moro aveva costruito fu volutamente un equilibrio che Moro stesso volle affidare a Giulio Andreotti. Non posso adesso fare la biografia di Andreotti, ci porterebbe via un intero corso universitario, ma per sommi capi diciamo che Moro stesso volle a capo di questo governo Giulio Andreotti perché? Perché Giulio Andreotti era un uomo di fiducia degli americani e quindi voleva mantenere questo equilibrio in avanti e indietro. Questo era il modo di pensare di Moro. Moro è un grande mediatore, è un uomo di equilibri e in un paese come l'Italia per questa ragione ha avuto una grande forza sempre perché la necessità di tenere insieme forse fra loro contrastanti era possibile soltanto a livelli anche intellettuali molto raffinati. Moro aveva questa capacità e trovò questo equilibrio di un governo molto avanti dal punto di vista costituzionale, ma tenuto da un uomo di fiducia degli Stati Uniti come Giulio Andreotti. Quindi un equilibrio, lo si capisce, molto molto delicato. Benissimo, quello che poi accadde in quei giorni fu qualcosa che non era facilmente prevedibile dal 16 marzo, ovvero la fuoriuscita da quella prigionia di scritture di Moro. In queste scritture in realtà si trattò soltanto di otto lettere che uscirono all'epoca. Sostanzialmente la questione che si pose fu la questione della trattativa, cioè trattare per liberare. Questo è quello che emersi all'epoca, ma in realtà dentro quelle lettere c'è molto molto di più. Ora fermiamoci soltanto un secondo e se avete delle domande anche fateme perché ora sto passando ad un altro ambito, ma me le potete fare quando volete. E fermiamoci un secondo qui. Queste scritture che cominciarono a uscire. Intanto, e torniamo alla questione metodologica, come facciamo noi oggi storici a studiarle? Queste scritture che non uscirono da quella prigionia, perché ne uscirono solo sette lettere più un testo molto polemico che Moro scrisse nei confronti di un ex ministro dell'interno, Paolo Emilio Taviani, col quale se la prese perché Taviani smentì una dichiarazione fatta da Moro in una lettera precedente. Quindi, a parte questo scritto, uscirono solo sette lettere. Come facciamo noi? Quali sono le fonti su cui noi studiamo questo avvenimento che però è nello stesso tempo anche la punta dell'iceberg di un movimento di lunga durata? Quali sono le fonti su cui lavoriamo? Come abbiamo potuto tenere in mano fisicamente? Perché io ho fatto questo percorso e ho recuperato questa documentazione. Quindi anche fisicamente vista, studiata, prelevata, recuperata. Ecco, quali sono le fonti? Poi dopo torneremo a quei 55 giorni. Ma le fonti su cui noi oggi osserviamo, grazie alle quali noi oggi osserviamo quei 55 giorni. Perché io non voglio ricostruirvi quei 55 giorni sulla base di quello che all'epoca emerse. Perché per fare questo basta leggere i giornali dell'epoca. Anche quelle sono fonti. Ma sono quello che all'epoca era noto. Le fonti di cui parlo io sono fonti invece molto più profonde. Sono altro. Sono ciò che all'epoca non usciva. Ma appunto ciò che non era, sono i testimoni loro malgrado, come dicevo. E quindi oggi, a distanza di molti anni, come facciamo a recuperare quelle scritture? Da dove vengono? Come possiamo studiarle da storici? Perché se no, le cose che io vi posso dire sui 55 giorni sono altre rispetto a quelle che si sapevano all'epoca. E tutto questo comporta una sorta di alienazione quasi, no? Cioè, ecco, invece noi lo possiamo fare perché abbiamo recuperato fonti e perché le possiamo leggere cercando di essere il più liberi possibili. Quali sono le fonti? Dove le andiamo a cercare queste fonti? Ma intanto questi episodi, questi fatti, producono delle indagini. Producono delle indagini da parte della polizia, da parte dei carabinieri, da parte della magistratura, da parte della procura e quindi poi delle corti d'assise che fanno i processi. E quindi queste carte che vengono prodotte, le indagini che vengono fatte, che all'epoca erano utili per elaborare o capire una verità, che chiamiamo una verità giudiziaria, perché esistono delle verità. Non esiste, o meglio, la verità esiste, ma noi la possiamo raggiungere solo attraverso dei percorsi molto parziali e possiamo raggiungere solo delle verità. Esistono solo delle verità contestualizzate. Quindi esiste una verità giudiziaria e quindi noi possiamo andare a cercare le carte della verità giudiziaria e andare quindi a recuperare le carte delle indagini. Ora come lo facciamo? Lo facciamo perché abbiamo un'amministrazione dei beni culturali che lo fa, io ne faccio parte e quindi le ho recuperate, non vi sto a raccontare come, ma per questo tipo di corso l'importante è sapere che è possibile recuperarle e quindi andare a cercare le carte di chi ha prodotto queste indagini e di chi ha fatto questi processi. Il processo per il rapimento e l'assassino di Moro non solo c'è, ma ce ne sono cinque. Ci sono cinque procedimenti per il rapimento e l'assassino di Moro e quindi voi potete immaginare che significa, dal punto di vista della quantità documentaria, navigare in questo oceano di documentazione che è stata prodotta da subito, dai primi rapporti della polizia, dei carabinieri, della questura e poi dalla procura e quindi recuperare tutto questo e poi gli interrogatori in udienza, il dibattimento eccetera. Quindi queste carte sono, diciamo, la prima fonte, una fonte importante. Poi ci sono le carte della Presidenza del Consiglio, le carte dei vari ministeri, del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Esteri. Poi ci sono le carte dei privati, esiste un archivio di Giulio Andreotti, che è possibile, era possibile, adesso in questo momento ci sono un po' di difficoltà, ma comunque esiste l'archivio di Giulio Andreotti, esistono gli archivi dei partiti politici, esiste l'archivio Moro, cioè l'archivio della famiglia Moro o l'archivio di Moro e quindi anche quello è possibile andarlo a vedere, consultarlo, fare i confronti, i raffronti, vedere queste fonti, queste scritture, rapportarle a quelle delle indagini. Esistono poi i mezzi di comunicazione, quindi appunto i giornali dell'epoca, la radio, la televisione, che si possono rivedere, ristudiare, ma studiare alla luce delle altre fonti e quindi non più soltanto per quello che si sapeva all'epoca, ma anche per quello che noi oggi sappiamo e quindi, come dicevo prima, il passato cambia, possiamo rivedere quello che questi mezzi dicevano e riosservarlo attraverso i nostri occhi. Poi questo episodio così gigantesco è stato oggetto anche di due commissioni parlamentari, una delle quali si è conclusa nel 2018, quindi poco fa, è durata quattro anni e ce n'era stata un'altra precedente, quindi è possibile andare a studiare le carte di queste commissioni. Poi esiste la documentazione cosiddetta declassificata, cioè la documentazione dei servizi e dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, che nasce ed è nata come documentazione riservata e che oggi invece riservata non è più, non è più segreta ed è stata declassificata con una direttiva, per quanto riguarda Moro, del governo Prodi nel 2008 e poi per le altre stragi che hanno insanguinato il nostro paese, con una direttiva invece del 2014, quindi la declassificazione significa che i documenti che erano segretissimi, segreti e riservatissimi riservati, perlomeno una parte di questa documentazione è possibile consultarla oggi. Ecco, dentro tutto questo ci sono anche le scritture di Moro, ovvero esistono dentro tutto questo, nell'ambito dei sequestri che furono fatti dall'autorità giudiziaria, anche le lettere originali, attenzione, quelle proprio scritte, manoscritte e autografe di Moro, scritte sulla carta che gli diedero i suoi carcerieri, e poi tutto il resto, che è un resto in grande parte invece di fotocopie e senza l'originale. Quindi, dentro questa ricchezza di documentazione, noi troviamo anche le scritture di Moro. Ora, era già chiaro sin da allora, alcuni raffinati intellettuali, già nel 78, avevano capito che quello che emergeva era solo una punta di iceberg di scritture, che c'era qualcosa di molto più profondo sotto. Lo aveva capito Leonardo Sciascia, lo aveva capito Italo Calvino. Italo Calvino scrisse, subito dopo la morte di Moro, una cosa molto profonda, in un articolo che si chiamava, che ha per titolo Le cose mai uscite da quella prigione, Italo Calvino rifletteva sulla possibilità, cito tra virgolette, dell'uso del discorso nel cuore del terrore, sostenendo la sua, e sempre cito da quell'articolo, la sua certezza desolata che quei dialoghi non si sarebbero mai più potuti ricostruire, che erano perduti per sempre, più di quelli di Cesare e di Bruto e di Antonio, perché i carnefici non raccontano mai nulla e Moro non sarebbe più tornato. Questo dialogo, cioè il dialogo fra Moro e i suoi carcerieri, riteneva Calvino, giustamente, che era il cuore del sequestro Moro, ma nello stesso tempo, diceva, è un buio assoluto, perché i carnefici non dicono mai la verità e Moro è morto, e quindi esiste una zona oscura nella quale noi dovremmo entrare per capire che cosa è successo, ma nella quale non entreremo mai. Invece, quello che non è del tutto vero, Calvino lo scriveva nel 78, è che non è invece del tutto vero che questa zona è del tutto buia, nel senso che le scritture che allora non erano conosciute, invece oggi lo sono, o perlomeno sono conosciute quelle che conosciamo, non siamo certi che siano tutte e non di tutte abbiamo l'originale. Però capite che cosa vuol dire quindi intanto il recupero di fonti. Adesso a questo punto che cosa significa interrogarle? Perché Moro cominciò a scrivere da subito, ma la prima lettera che uscì da quel sequestro arrivò soltanto il 29 marzo, quindi 13 giorni dopo il suo rapimento. Nel frattempo erano usciti i comunicati delle Brigate Rosse, anche quei comunicati noi oggi possiamo studiarli, perché anche quei comunicati fanno parte del materiale sequestrato e che sta all'interno dei fascicoli dell'indagine e della procura. Quindi noi abbiamo la possibilità di studiare questi comunicati addirittura in tutte le loro varie copie che uscivano in tutto il territorio nazionale. Quindi ne vediamo diversi esemplari e li possiamo studiare. Già in quei comunicati, già nel primo comunicato che uscì il 18 marzo, con la prima fotografia di Moro prigioniero, fotografia che anche quella è negli atti, esiste quella fotografia originale, ormai molto sbiadita, ma esiste ed è negli atti, anche quella fotografia che conoscerete sicuramente tutti perché è una delle icone del secondo novecento italiano, è una delle immagini tipo che rappresentano con forza la storia di quei tragici anni. Insieme a quella fotografia uscì il comunicato numero uno e poi subito dopo il comunicato numero due e in entrambi questi comunicati si diceva che Moro sarebbe stato soggetto a un processo. Allora nella prima lettera che Moro fa arrivare al ministro Cossiga, qui nasce il primo problema, il primo mistero, diciamo così, chiamiamolo così, perché in quella lettera Moro dice a Cossiga che scrive in modo riservato e gli scrive di essere sottoposto a un processo popolare ed è sottoposto a un dominio pieno ed incontrollato, sono sottoposto ad un dominio pieno ed incontrollato e a un processo popolare che può essere opportunamente graduato e dice che è molto pericoloso questa situazione perché può essere indotto a parlare anche di cose riservate e che si pone una ragione, un problema di ragione di Stato. In questo documento c'è qualcosa di criptico perché dice di essere sottoposto a un dominio pieno ed incontrollato, ma poi dice anche di essere sottoposto ad un processo che può essere opportunamente graduato. È molto complicato capire che cosa significhi che può essere opportunamente graduato. insieme a questa lettera che doveva rimanere riservata e che invece le Brigate Rosse resero pubblica immediatamente, Moro scrisse anche un'altra lettera che doveva rimanere riservata e che le Brigate Rosse lasciarono riservata, una lettera al suo segretario nel quale gli dava le istruzioni su come far passare la documentazione in una precisa postazione che era la sua portineria. Quindi le Brigate Rosse giocarono un gioco molto complicato perché fecero passare l'informazione sulla lettera riservata a Cossiga, non l'altra, dissero a Moro che fu Cossiga a renderla pubblica e invece non era così. Questo noi lo sappiamo. Perché lo sappiamo? Lo sappiamo perché conosciamo le fotocopie delle altre lettere, anche di quelle che le Brigate Rosse non fecero uscire da quella prigione. E in una di queste Moro rimprovera a Cossiga per aver reso pubblica quella lettera. Ora, in quella lettera si parla appunto del processo, cioè Moro è sottoposto a questo processo. Nelle lettere successive si parlerà sempre della necessità della trattativa. Voi sapete che una delle questioni del rapimento Moro fu proprio questa questione della trattativa, cioè la decisione di non trattare. E quindi il dibattito che ci fu all'epoca su questa cosa, che oggi è un dibattito assai superato e di cui conosciamo tutti i limiti e le strumentalizzazioni. La seconda questione molto importante che si pone per chi studia queste fonti è chi veramente scrisse questi testi. Perché all'epoca l'affermazione che passò fu che non era Moro e che quindi erano, come si poteva facilmente immaginare, essendo Moro un soggetto sottoposto a ricatto della vita, scriveva quello che i suoi sequestratori volevano che scrivesse. Questa fu una questione importante ed è una questione, ed è stata per noi storici, per noi studiosi, una questione da sciogliere. Cioè chi scrisse quelle lettere e qual era la modalità di scrittura di queste lettere. È proprio quell'oscurità di cui parla Italo Calvino, proprio quel dialogo oscuro, plumbeo e di difficile interpretazione di cui parla Italo Calvino. Quindi si trattava di un uomo politico di raffinata intelligenza che faceva politica da quella prigionia o si trattava di una strumentalizzazione dei suoi sequestratori? Noi possiamo oggi con la ricerca scientifica sciogliere questo nodo? La risposta è sì, possiamo sciogliere questo nodo interrogando bene le fonti. Questa appunto è un'altra questione che nasce da quel sequestro, quella che poi non soltanto gli storici, ma anche lo stesso Ministero dell'Interno anni dopo definì svalutazione dello stagio. Cioè la tecnica della svalutazione dello stagio. Cioè sostenere due cose. Uno, che l'ostagio non conosceva segreti di Stato, cosa che era piuttosto inverosimile, essendo stato moro Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, e infatti non era vera. E poi che chi scriveva non era appunto moro. La svalutazione dello stagio significava svalorizzare ciò che di più importante avevano in mano i sequestratori, e anche una tecnica di gestione dei rapimenti, dei sequestri. Cioè dire che quel rapito non è così importante come i rapitori credono che sia. È passata come una tecnica di questo genere, appunto la svalutazione dello stagio, che ha condizionato anche il giudizio su quegli scritti. E su quegli scritti, che poi erano solo quelli che le Brigate Rosse facevano uscire dal sequestro. Dallo studio di tutta la documentazione che noi abbiamo, sappiamo appunto che invece si trattò di 100 lettere e di 230 fogli scritti in risposta all'interrogatorio. Come siamo venuti a conoscenza di questo? Perché il modo in cui siamo venuti a conoscenza di questo documento è importante quasi quanto il documento stesso. Dopo l'assassinio di Moro, che avvenne appunto il 9 maggio del 78, nell'ottobre di quello stesso anno, il nucleo dei carabinieri, il nucleo speciale dei carabinieri che fu istituito, era stato sciolto prima del rapimento di Moro, perché c'era già, fu sciolto il nucleo speciale dei carabinieri di Carlo Alberto dalla Chiesa, e quindi durante il rapimento non c'era, durante il sequestro non c'era, fu poi ricostituito subito dopo, e nell'ottobre del 1978 a Milano, in via Montenevoso, in un appartamento di via Montenevoso, recuperò 78 fogli dattiloscritti, dattiloscritti, attenzione. Cioè in questo appartamento, che era un appartamento delle Brigate Rosse, furono sequestrati questi 78 fogli dattiloscritti, questi 78 fogli, naturalmente noi li conosciamo, li possiamo studiare, io li ho anche pubblicati insieme al memoriale, nel sito della Direzione Generale Archivi, quindi voi potete vederli, potrei farvi vedere qualcosa anche adesso, ma comunque li potete vedere, perché ho pubblicato quello che, i dattiloscritti saranno pubblicati fra qualche settimana, ma il memoriale e anche le fotocopie delle lettere, sono pubblicate, la loro digitalizzazione è pubblicata, appunto nel sito della Direzione Generale Archivi, del Ministero Beni Culturali. Quindi questi dattiloscritti, questi 78 dattiloscritti, fanno parte del materiale sequestrato a Milano, ma che però arrivò a Roma, perché Roma era naturalmente competente, dal punto di vista giudiziario, e quindi sono conservati nell'ambito del fascicolo processuale, noi li possiamo studiare. Questi 78 fogli dattiloscritti, contenevano la trascrizione di molte lettere, che all'epoca del sequestro non erano uscite, e poi contenevano anche uno strano testo, che era appunto relativo alla storia italiana, aveva per argomento il caso Sifar, per esempio, quello di cui vi ho accennato, aveva per argomento la riforma dei servizi segreti, aveva per argomento i finanziamenti ai partiti, e diversi altri argomenti di cui vi dirò. Però trovati in forma dattiloscritta, è compreso anche un testo drammatico, che venne considerato il primo dei testi, un testo che era un'invertiva durissima contro la democrazia cristiana e contro Andreotti, nella quale si diceva che lui sarebbe stato liberato. E quindi questo nucleo di carte, questi 78 fogli dattiloscritti, furono giudicati come uno. Mi sentite? Ecco, mi vedete adesso? Ok. Questi 78 fogli furono giudicati come una conferma di quanto era stato detto durante il rapimento, cioè che le Brigate Rosse avevano scritto questi testi e che poi Moro sotto dettatura scriveva le sue lettere e scriveva le sue risposte all'interrogatorio. Quindi fu confermata questa versione che era legata a questa logica della svalutazione dell'ostaggio. E questo nucleo di verità, legato anche a questo testo che sembrava il testo iniziale, nel quale si diceva che si cercava la libertà e si parlava con giudizi durissimi di Andreotti, di Piccoli, di altri personaggi, Zaccagnini che era il segretario della democrazia cristiana, e poi si rivelavano dei segreti. Quindi in sostanza l'immagine che usciva era quella di un uomo ricattato che sotto ordine dei suoi sequestratori scriveva ciò che i sequestratori affermavano. Questa, diciamo, tra virgolette, questa verità che possiamo definire una verità relativa, una verità contestualizzata in quel momento, in quel frangente, rimase sostanzialmente quasi vera, naturalmente anche molto criticata da giornalisti e da osservatori dell'epoca, ma mai studiata dal punto di vista surrebratico, cosa che possiamo fare soltanto da pochi anni. Questo giudizio rimase fino al 1990, quando, non è un caso l'anno, anche qui attenzione alle date e agli anni sono molto importanti per capire i fenomeni, quando, finita la guerra fredda, quindi 90 significa dopo il 1989, in quello stesso appartamento, dove nel 78 furono trovati questi 78 fogli da tiroscritti, in quello stesso appartamento, dietro un pannello di gesso sotto una finestra, anche evidentemente, non era stato visto nel 78, furono trovati ben 430 fotocopie di autografi, però, quindi fotocopie di autografi di mano di Moro, che comprendevano anche i testi autografi di quei da tiroscritti e in più molto altro. Ora, naturalmente, l'aver trovato questi autografi ha cambiato radicalmente il senso della questione, perché, tra l'altro, erano autografi molto più ampi, scritti inequivocabilmente da Moro, i dati lo scritti erano stati fatti dalle Brigate Rosse, persino con moltissimi errori di incomprensione su cose che Moro non avrebbe mai potuto scrivere così. Questi autografi furono, invece, chiaramente definiti come gli autografi di Moro, però si tratta di fotocopie, e quindi gli originali di quei testi noi non li conosciamo e non li conosciamo ancora. Naturalmente, anche questi 420 fogli, complessivamente, fanno parte delle indagini, ed è per questo che arrivano a noi ricercatori e a noi storici. Quindi, io stesso li ho recuperati, ho potuto fare questo lavoro di recupero e sono poi diventati oggetto di studio. Ora, come si può interrogare una fonte, quindi, così complessa? Considerate che, nel frattempo, Carlo Alberto dalla Chiesa, che aveva recuperato i 78 fogli da tiro scritti in via Montenevoso, nel frattempo, poco dopo, qualche anno dopo, fu assassinato, fu ucciso. Così come era stato ucciso nel 79 un giornalista, Carmine Pecorelli, che nella sua rivista aveva pubblicato delle anticipazioni di questo memoriale, evidentemente conoscendolo sin dal 78, e fu ucciso nel 79. Oltre a una serie di altre vicende molto complesse che accaddero prima del ritrovamento del 90, considerate ancora che, tra le varie cose che in questo memoriale si dicono, si fa riferimento, anche se non propriamente, alla struttura stay behind, non so chi di voi la conosce, la struttura cosiddetta di Gladio, che non era nota prima del 90, fu resa pubblicamente nota da Giulio Andreotti, appunto dal personaggio politico che era capo del governo proprio durante il sequestro Moro, fu resa nota l'esistenza di questa formazione militare non riconosciuta, una formazione militare, sì, clandestina, che appunto si chiamava Gladio, di cui si accenna, non se ne parla, non è corretto dire che se ne parli nel memoriale, ma si accenna nel memoriale a questo, fu resa nota in Parlamento nei giorni in cui nel 1990 veniva trovato questo corpus documentario e questo nucleo documentario che è fatto sia di lettere che di appunti e di memoriale, e del memoriale, cioè appunto delle risposte all'interrogatorio. Ora, e quindi come capite anche soltanto da questi accenni che vi faccio, sono soltanto alcune delle questioni che si pongono e che pongono anche dei problemi storiografici interessanti e importanti, ovvero della gestione del sequestro stesso e della gestione di questa documentazione sia da parte dei sequestratori che da parte di chi faceva le indagini all'epoca, si pone oggi il problema di interpretarli alla luce di tutti questi avvenimenti e di cercare di dare una risposta a quell'insondabile di cui parlava Italo Calvino, perché l'insondabile di cui parlava Italo Calvino è in parte come residuo rappresentato proprio da questo nucleo che racconta del rapporto fra Moro e i suoi carcerieri, perché Moro dialoga anche con i suoi carcerieri dentro questo testo che appunto definiamo il memoriale. Ci sono i suoi segni di questa interpretazione e ci consente anche di capire come scriveva le lettere. Come abbiamo fatto a capire questo? Delle poche lettere originali che noi abbiamo, ne abbiamo ufficialmente, le nostre istituzioni ne conservano soltanto 14, ma conosciamo dell'esistenza di alcune lettere originali che sono in mano ai loro destinatari, e poi di circa 60 lettere conosciamo soltanto la fotocopia trovata a Via Montenevoso. Ma dagli originali noi capiamo che Moro scriveva con più penne di colori diversi, aveva una sua calligrafia, cambia questa calligrafia nei diversi momenti e molti, queste pagine si capisce che sono in parte sostituite da altre pagine che cambiano inchiostro e cambiano colore. Tutto questo è stato considerato fino a poco tempo fa un'altra dimostrazione del fatto che gli si suggeriva il modo di scrivere. E quindi queste diversità di scrittura, di inchiostri, di innesti sono apparsi come uno dei tanti modi per spiegare, dimostrare che appunto si trattava di scrittura indotta, di scrittura suggerita. Ora, a distanza di molti anni noi cosa abbiamo invece fatto? Non abbiamo lavorato semplicemente su queste fonti. Noi abbiamo interrogato questa fonte mettendola in relazione, quando dico noi parlo di un gruppo di lavoro che è stato formato, io l'ho diretto, ma è stato formato oltre che da me da Miguel Gotor, da Antonella Padova che è una grafologa, da Francesco Biscione che è uno storico, da Sergio Flaminni che fu membro della Commissione parlamentare e da un archivista come Stefano Tvarzi che è quindi un gruppo di lavoro. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo cercato di liberarci da tutto questo dibattito e ci siamo fermati al confronto tra le fonti e quindi abbiamo messo in relazione queste scritture fatte studiare anche dal punto di vista grafologico per comprendere i passaggi, i movimenti, gli stati d'animo e le abbiamo associate alle lettere e le abbiamo associate a tutte le scritture di Aldo Moro dal 1946 fino al 15 marzo del 1978. Cioè abbiamo messo a confronto queste scritture fatte, create, elaborate durante la prigionia con tutte le scritture di Moro recuperate dall'archivio Moro e quindi con il suo modo di scrivere e di organizzare la scrittura di organizzare le sue interviste che Moro aveva precedentemente al sequestro. Ecco vedete questo è uno degli elementi di un procedimento di natura scientifica cioè un procedimento che fa dei passi che cercano di interrogare il documento senza concetti preordinati ma soltanto su un'ipotesi di ricerca. La nostra ipotesi di ricerca era capire se il modo in cui Moro lavorava prima del sequestro era paragonabile o confrontabile al modo in cui Moro ha lavorato durante il sequestro e questo era un modo questo è uno dei modi di interrogare la fonte del memoriale cioè non rimanendo dentro il memoriale ma fuoriuscendo da quel documento e mettendolo in rapporto con tutti gli altri. Intanto una cosa molto importante era dare un percorso cronologico a questo testo perché questo testo è fatto di cancellazioni andatelo a vedere nel sito lo vedrete di cancellazioni di ripensamenti di scrittura molto molto difficile da decifrare è dato da versioni diverse sullo stesso sullo stesso argomento come a volte accadeva anche nelle lettere cioè abbiamo recuperato versioni diverse innesti inchiostri di colore diverso penne di colore diverso bene studiando le carte di Moro abbiamo scoperto molte cose e prima di arrivare a questo confronto un altro elemento che vi devo dire del memoriale della sua morfologia perché è un documento complicato anche dal punto di vista formale è un documento che è fatto di tre diversi nuclei un nucleo che è un'elaborazione diciamo libera che ha dei numeri di carta e Moro numerava le carte di diversi argomenti poi c'è un nucleo di testi che hanno un numero di argomento quindi Moro numerava l'argomento uno due tre sono diversi argomenti di cui parla nel testo sono sedici gli argomenti che numera per undici di questi argomenti ci sono due versioni sullo stesso argomento per cinque invece c'è una sola versione e poi c'è un altro nucleo di testi che sembra discendere da questi argomenti ma che non ha un numero di argomento anche questo è stato interpretato come un intervento delle brigate rosse cioè è stato interpretato come la risposta a un formulario di domande che evidentemente era stato ritenuto fossero sedici domande e che Moro rispondeva come un alunno a queste domande scrivendo il numero della domanda infatti nella prima pubblicazione del memoriale che fu fatta nel 93 ma non dalle fotocopie delle brigate rosse ma dalle fotografie che furono fatte dalle varie commissioni parlamentari quindi non era mai stata studiata la fonte primaria queste doppie versioni di questi argomenti erano state considerate insieme come se fossero state scritte nello stesso momento e soprattutto non c'era un percorso cronologico di questo testo era un ammasso di carte molto complicate gli argomenti tanto per farvi capire l'importanza erano come vi dicevo cominciavano dal rapimento una riflessione sul rapimento poi c'era un testo sulla politica estera e sulla questione israelo-palestinese poi c'era un testo sul rapporto fra la dc e il partito comunista poi c'era un testo sui tecnocrati così li chiamavano dentro il governo poi c'era un testo ancora sul sequestro poi c'era un testo su taviani quello che vi ho detto poi c'era un testo sul caso Sifa di cui vi ho parlato cioè il tentativo di colpo di stato del 64 poi c'era un testo sulla strategia della tensione sapete cos'è la strategia della tensione vi ho detto che Moro ha parlato nel 69 della strategia dell'attenzione verso le forze di massa popolari a dicembre del 69 con la strage di piazza fontana comincia la strategia della tensione che fu chiamata così anche in contrapposizione alla strategia dell'attenzione poi c'è un testo sulla strage di piazza fontana poi c'è un testo sulla riforma dei servizi segreti che furono riformati proprio pochi mesi prima del rapimento nel 77 c'è un testo sui finanziamenti alla democrazia cristiana un testo sullo scandalo Lockheed non so se lo conoscete ora non possiamo approfondirlo ma uno scandalo di quei giorni un testo sugli ambasciatori americani un testo sul ruolo del presidente della repubblica uno sulle riforme istituzionali e un altro sugli agnelli e sulla famiglia agnelli poi seguono invece dei testi che hanno un solo argomento che sono sulla Montedison e sulla corruzione nella Montedison tutte cose che noi poi conoscemmo soltanto con le inchieste di Tangentopoli nel 92 un testo sul rapporto tra la democrazia cristiana e le banche un testo sulla Nato anzi sono due i testi sulla Nato quello in cui lui parla della Nato e di formazioni che sembrano somigliare a quella che poi fu identificata come Gladio poi un testo su Francesco Cossiga che era il ministro dell'interno e poi un testo sulla libertà di stampa un testo molto profondo sulla libertà di stampa poi ci sono dei testi su Fanfani e un testo su Andreotti e sui rapporti con Michele Sindona di cui allora non si sapeva praticamente niente e poi c'è un testo finale che noi abbiamo scoperto essere il testo finale e che nel 78 venne considerato il testo iniziale cioè un testo incredibile un testo da brivido nel quale sostanzialmente lui dice alla fine del ma appunto alla fine del sequestro lui dice il periodo abbastanza lungo che ho passato come prigioniero politico delle Brigate Rosse è stato naturalmente duro come nella natura delle cose e come tale educativo capite ho passato come prigioniero delle Brigate Rosse e alla fine dice che sa che per grazia delle Brigate Rosse sarà liberato ed è in questo testo che lui sostiene che uscirà e che tornerà in Parlamento nel gruppo misto e fa una serie di critiche profonde a Giulio Andreotti e agli uomini politici che avevano governato in quei giorni del sequestro un testo terribile che l'attore Gifuni ha da poco recitato a teatro e insomma ascoltato da lui è un testo ancora più profondo è un'invettiva molto forte nei confronti del suo stesso partito ma è un testo finale e mettendo questo testo alla fine tutta la logica del discorso cambia radicalmente allora ecco detto questo appunto questo vi fa capire come ricostruire il percorso cronologico di questo testo che sembrava un ammasso di testi tra loro slegato e incoerente metterlo in ordine cronologico è un altro modo di interrogare la fonte di comprenderne il senso è come avere tante sequenze di un film senza un ordine e poi arriva al montaggio e dà un senso al film il film esiste in quanto esiste un montaggio delle sequenze senza quel montaggio il film è un altro oppure non c'è anzi non c'è il film è il montaggio è una si chiama infatti sequenza si chiamano infatti sequenze non a caso quindi il senso è la sequenza come abbiamo potuto fare questo che cosa vuol dire interrogare le fonti e come è stato possibile farlo perché nel momento in cui abbiamo fatto questo abbiamo anche capito perché Moro ha scritto due volte le risposte alla stessa domanda l'abbiamo capito solo dopo aver fatto questo lavoro ve lo dirò poi alla fine ma prima di dirvi perché ha scritto due testi e qual è la differenza fra un testo e l'altro devo però prima dirvi come è possibile costruire questa sequenza in che modo è possibile costruire perché sto parlando anche di un percorso logico e di natura scientifica bene noi avevamo le lettere e le lettere hanno una loro sequenza perché le lettere in parte erano conosciute in parte non erano conosciute però nelle lettere lui fa riferimento ai venti e a cose che rendono possibile datare le lettere quindi quella parte di questo corpus aveva un suo percorso cronologico abbastanza chiaro che è dovuto alla natura stessa del documento perché era scritto perché qualcun altro lo ricevesse e quindi e parlava dello stesso rapimento e degli eventi che erano accaduti nello stesso rapimento quindi in parte perché erano datate in parte perché uscivano in un determinato giorno in parte perché pur non essendo state fatte uscire dai rapitori avevano però all'interno degli elementi che consentivano una datazione noi avevamo circa 100 lettere circa 100 testi che potevano essere emessi in una sequenza cronologica nello stesso tempo avevamo un'analisi grafologica dei cambiamenti radicali della scrittura che avvengono sempre in una situazione di quel tipo di tragedia in un essere umano il quale passa da stati emotivi a stati emotivi opposti nel giro di poche ore o nel giro di pochi giorni questo muta profondamente il modo di scrivere e quindi abbiamo separatamente fatto un'analisi grafologica dei testi delle lettere secondo l'arco del percorso cronologico delle lettere associandolo poi alla scrittura del memoriale agganciandolo alla scrittura delle lettere quindi associando quegli stati di giorno per giorno anche a volte di ora per ora agli stessi stati che si potevano osservare nelle lettere questo è stato una prima modalità di sequenza delle scritture del memoriale ma soltanto la prima una prima visione generale che ci ha rimesso queste tessere del mosaico secondo un altro ordine che davano luogo a un'altra immagine come rimescolare le tessere appunto di un mosaico attraverso lo spostamento di queste tessere produrre un'immagine radicalmente diversa quindi già questo ci dava una modalità una sequenza e poi abbiamo studiato il modo di scrivere di moro come vi dicevo prima del sequestro e lì abbiamo scoperto che l'uso delle diverse penne era normale in moro ed era un modo per modificare i suoi testi che lui scriveva e riscriveva continuamente oggi questa è una cosa che noi non conosciamo questo tipo di cosa perché lo studio e la scrittura con un programma con un word o con un programma qualunque ci fa cancellare quello che abbiamo scritto sopra a meno che non ci teniamo in memoria tutto quello che facciamo ma noi azzeriamo quello che abbiamo scritto per avere poi un prodotto finale moro come molti che quando si scrive a mano la cosa cambia voleva non soltanto modificare il testo ma anche distinguere le modifiche mano a mano che il testo avanzava e cambiava e lo faceva cambiando penna lo faceva cambiando penna e cambiando colore e quindi sapeva che quello che era scritto in un determinato colore era la prima parte poi c'era un'aggiunta fatta in un certo momento un'aggiunta fatta in un altro momento e lavora in questa modalità abbiamo poi scoperto che quando rispondeva alle domande dei giornalisti lui faceva una cosa molto raffinata e intelligente non rispondeva alle singole domande ma raccoglieva le domande in argomenti e lo scrive anche nei suoi appunti preferisco fare così perché le vostre domande sono interrelate sono in relazione l'una con l'altra e quindi non rispondo a singole domande dove dovrei ripetere delle cose ma le aggrego rispondendo a dei nuclei di domande e poi questo lo abbiamo visto anche appunto nelle sue scritture questo consente non solo di essere completi ma anche di non rispondere alle domande alle quali non si vuole rispondere quindi è una modalità complessa intelligente che insieme è dovuta alla necessità di completezza ma anche di integrità delle proprie risposte di opportunità delle proprie risposte quindi questa aggregazione in domande ci ha fatto pensare che le domande non erano 16 ma erano molte di più e che quelle erano solo le aggregazioni fatte da Moro ad un certo punto del sequestro abbiamo anche poi individuato quale quindi questo ci ha consentito di capire che quella quelle diverse versioni anche delle lettere erano in realtà versioni sue che la censura è consistita nel fatto che un uomo sequestrato in quel modo si auto vigilava e sapeva benissimo cosa poteva scrivere e cosa non poteva scrivere e poi che delle diverse versioni a volte le Brigate Rosse ne sceglievano alcune e altre le lasciavano nell'ambito della prigionia non le hanno rese note quindi è un lavoro molto più complesso non si tratta di ricatto sì ricatto no o di uno scolaretto che scrive quello che il rapitore gli dice ma di un rapporto dialettico molto più molto più complesso e quindi le domande erano di più e le abbiamo individuate come abbiamo fatto a individuare le domande abbiamo lavorato sulle fonti abbiamo interrogato cosa abbiamo interrogato abbiamo interrogato i comunicati delle Brigate Rosse e poi i documenti strategici delle Brigate Rosse le analisi politiche delle Brigate Rosse e abbiamo riscontrato che fra quelle analisi e le risposte di Moro c'erano dei nessi e quindi abbiamo potuto intravedere le possibili domande perché le domande non esistono da nessuna parte non le abbiamo e quindi individuando le domande abbiamo potuto anche capire meglio le risposte perché le risposte hanno un senso se tu conosci la domanda che è stata fatta e grazie a questo abbiamo anche capito cosa Moro diceva e cosa invece non diceva dopodiché abbiamo anche capito un'altra cosa fondamentale e cioè e cioè che Moro che fu condannato a morte il 15 aprile perlomeno noi conosciamo questa data perché il comunicato del 15 aprile dichiara che l'interrogatorio è finito e che Moro è stato condannato a morte e invece quello che emerge da questo testo studiato e interrogato in questa maniera è che Moro scrisse la seconda versione dopo la condanna a morte cioè capite avere ricostruito questo percorso cronologico ci ha dato una risposta importantissima cioè dopo la condanna a morte Moro continua a scrivere e scrive la seconda versione quindi le due versioni non possono essere lette insieme ma lette invece nella nel contesto del percorso del rapitore e se si mettono a confronto i due diversi testi si capisce che ci sono delle differenze e queste differenze adesso io non posso certo raccontarvele tutte abbiamo pubblicato l'edizione critica che si chiama il memoriale di Moro edizione critica dove appunto tutto questo è spiegato queste differenze sono sono questo adesso uso un termine che dovreste mettere in relazione con la prima parte della mia lezione queste differenze sono una graduazione vi ricordate il termine che ha usato Moro nella prima lettera quella accossiga cioè io sono sottoposto a un dominio pieno ed incontrollato e a un processo popolare che può essere opportunamente graduato e voi capite che avere messo questa costruito questa sequenza hai capito che c'è una seconda versione più forte in cui Moro dice più cose rispetto alla prima cambia il senso delle scritture ci dice qualcosa del sequestro Moro al di là delle forzate interpretazioni di natura ideologica o politica ci dice qualcosa il documento è il documento che parla è il documento che ci dice qualcosa grazie al modo giusto in cui noi abbiamo interrogato vi faccio per esempio ecco questo esempio sui servizi segreti sulla riforma dei servizi segreti nella prima nel primo dei testi quello che cronologicamente ci risulta primo e quindi scritto prima del 15 aprile Moro dice che la riforma dei servizi segreti considerate che i servizi segreti erano fino ad allora erano stati appannaggio dei militari la natura profonda della riforma dei nostri servizi che avviene nel 77 è diciamo il tentativo del passaggio del controllo dei servizi dall'apparato militare all'apparato politico cioè in sostanza al presidente del consiglio al ministro dell'interno e al ministro della difesa nella prima e poi furono riformati di nuovo nel 2007 e questa caratteristica è stata rafforzata oggi i servizi sono controllati dalla presidente del consiglio e sono strutturati in maniera molto diversa da come erano prima del 77 anche questa è una cosa che non posso approfondire certo qua che è molto complessa ma per farvi capire che cosa dice Moro in queste poche righe nella primo testo lui dice che questa riforma fu prima che uno scontro di persone vi leggo proprio quello che dice lui vi fu comprensibilmente uno scontro di amministrazioni in realtà quindi la partita si è giocata tra i ministri competenti ed il presidente del consiglio altri esponenti politici come l'onorevole Rumoro o chiunque altro non avrebbero potuto averne parte naturalmente esce rafforzata la posizione del presidente del consiglio perché è responsabile del servizio è responsabile del segreto e media tra i due ministri questa è la prima versione sentite cosa dice la seconda versione dopo il 15 aprile quindi nella prima lui dice che fu uno scontro non di persona non di persone ma di amministrazione e dice nella seconda versione quello che conta però è la conclusione politica perché vi è stata perlomeno una gara di persone per acquisire maggiore potere mediante questo strumento di importanza determinante nella vita dello Stato mi pare che esca vincitore avendo straordinaria abilità ad impadronirsi di tutte le leve il presidente del consiglio ed è giusto che le masse i partiti gli organi dello Stato stiano bene attenti senza diffidenza pregiudiziale ma anche senza disattenzione al personaggio che la regge ha voluto detentore di tutti i segreti dello Stato i più delicati salvo il controllo da sperimentare dell'apposita commissione parlamentare questa persona detiene nelle mani un potere enorme all'interno e all'estero di fronte al quale i dossier dei quali si parlava ai tempi di Tambroni francamente impallidiscono e soprattutto la situazione deve essere considerata avendo presente l'esperienza del passato l'inquinamento del trentennio che appunto deprechiamo voi capite anche se non conoscete anche chi di voi non conosce bene questa storia magari non conosce cosa significa riferimento a Tambroni che era il presidente del Consiglio nel 60 che fu costretto alle dimissioni dopo una battaglia in piazza sanguinosa un governo appoggiato allora dal movimento sociale ma insomma anche chi non conosce queste cose capisce può capire facilmente la differenza tra questi due testi e quindi cosa significa graduare le risposte ora quindi avere ricostruito questo percorso ci ha rivelato quella frase criptica il significato di quella frase criptica che stava nella lettera a Cossiga io sono sottoposto ad un dominio pieno di un controllato ed un processo popolare che può essere opportunamente graduato significa io sono sottoposto a un dominio sono qui sotto il comando il potere di qualcuno che controlla la mia vita però io posso controllare le mie risposte all'interrogatorio è una bella questione perché le brigate rosse hanno letto questo testo e lo hanno comunque reso pubblico e lo hanno comunque dato al ministro dell'interno cioè sapevano che di fronte avevano un uomo politico che decideva di graduare le sue risposte e che queste risposte furono effettivamente graduate e lo furono dopo il 15 aprile cioè dopo la condanna a morte di cui noi conosciamo perché appunto ci fu il comunicato del 15 aprile chi non conosce tutta la storia del rapimento forse non sa che il 18 aprile è anche un giorno decisivo di questo rapimento di questo sequestro che ha fatto la storia del nostro paese il 18 aprile ci fu contemporaneamente il ritrovamento di uno degli appartamenti delle brigate rosse in via gradoli e nello stesso momento uscì un comunicato apparentemente delle brigate rosse un comunicato numero 7 nel quale si diceva che Moro era stato ucciso e che il suo cadavere si trovava nel lago della duquessa al confine tra il Lazio e l'Abruzzo in realtà non era vero niente e il comunicato numero 7 era un comunicato falso poi noi sappiamo che questo comunicato fu elaborato dallo stesso criminale dal Ministero dell'Interno per ragioni che poi loro hanno spiegato nei vari procedimenti ma che Moro evidentemente interpretò e in seguito a questo quello che noi possiamo dire vedete non è una cosa che noi diciamo sulla base di una congettura di natura ideologica o di natura politica un sospetto lo diciamo perché l'analisi fatta su questa documentazione ci dice che questa parte è stata scritta contestualmente alle lettere che furono scritte dopo il 18 aprile quindi questa parte del memoriale è stata scritta dopo la condanna a morte e quindi questo testo nel quale Moro dice che sarà liberato e che tornerà in Parlamento nel gruppo misto non è un testo che Moro ha scritto all'inizio sotto condizionamento delle brigate rosse ma invece è un testo che ha scritto alla fine del sequestro e questo cambia radicalmente tutto questo film la cosa che mi preme dirvi è che questo tipo di elaborazione quindi è un'elaborazione che viene fatta secondo una metodologia che è la metodologia una metodologia della ricerca storica e della esegesi delle fonti quello è un percorso scientifico ed è un percorso scientifico perché è un percorso diciamo esatto ecco un percorso scientifico non è un percorso che porta alla verità come se esistesse una verità assoluta ma questo è vero anche in fisica è vero in chimica è vero in biologia è un percorso esatto cioè un percorso costruito secondo delle fonti o secondo una metodologia logica rigorosa che è riconosciuta da una comunità di studiosi è tutto qua e in questo senso tutto qua per modo di dire naturalmente è in questo senso un percorso che oggi è possibile fare a 42 anni da questa documentazione è un percorso di questo genere a me interessava farvi capire che dal punto di vista metodologico il lavoro scientifico è un lavoro che può essere assimilato integrato ecco scriveva Block che nessuno può studiare da solo nessuno può lavorare soltanto nella sua specializzazione ma è possibile un lavoro rigoroso un lavoro di conoscenza solo attraverso l'interdisciplinarietà noi qui anche in questo caso l'abbiamo molto molto utilizzata perché poi abbiamo fatto anche analisi chimiche e fisiche della documentazione quindi scoperto anche molte molte altre cose dedotto anche altre conclusioni però capite che la strumentazione di natura metodologica è potente su un documento altrettanto potente che ci viene come dire riflesso restituito ecco restituito il più possibile attraverso questo tipo di analisi quindi noi qualcosa di quell'oscurità di cui parla Italo Calvino l'abbiamo poi scoperta e non solo quello che vi ho detto ma molto altro che è relativo appunto a questo rapporto complicato che non poteva non esserci tra un uomo politico di quella dimensione di quel calibro e i suoi rapitori che stettero lì 55 giorni in questo tipo di dialettica e di discussione quindi il memoriale noi lo possiamo datare addirittura fino intorno al 2 maggio e quindi anche il senso della trattativa che Moro chiede dalla prigione e la chiede fino al 29 aprile perché esistono lettere che furono recapitate il 29 aprile lettere drammatiche nelle quali lui cambia il suo tono anche questo è molto importante ragazzi no le lettere non cambiano soltanto perché cambia la calligrafia ma le lettere successive al 18 aprile cambiano il tono nel senso che Moro cambia il suo modo di esprimersi e comanda chiede ai suoi collaboratori ai politici ai quali manda le lettere o meglio prima chiedeva poi non chiede più cioè ordina e dice cosa devono fare per poter costruire un percorso di trattativa è cambiato è cambiato qualcosa e uno storico deve anche capire questo uno storico fa parte del percorso scientifico dello storico deve anche capire questo dice Bloch che lo storico è come l'orco che segue l'odore dell'uomo e quindi non possiamo prescindere anche da questo e dal comprendere anche che dietro le nostre fonti c'è sempre umanità c'è sempre qualcosa che riguarda l'uomo ed è per questo che la storia diceva Fustel de Coulange è la più difficile di tutte le scienze perché ha per oggetto se stesso se stessi e quindi però questo noi lo dobbiamo fare e quindi per esempio su queste lettere il tono di Moro cambia è un tono che ordina è tornato ad essere capo allora se noi questa cosa la associamo al fatto che nel memoriale lui dice che sarà liberato e che torna in Parlamento nel gruppo misto e che questo lo fa alla fine del percorso del sequestro questo significa che lui sa di essere liberato ma che nello stesso tempo vuole la trattativa per essere liberato e quindi questo pone un problema un altro tipo di problema perché pur essendo sicuro di essere liberato insiste con tale potenza e tale forza perché ci sia una trattativa per essere liberato e questo è un fatto che ha una sua risposta perché Moro sa da politico che non si può uscire da quel contesto solo perché si è liberati per grazia delle Brigate Rosse che un politico sa che i modi in cui avvengono le cose sono importanti tanto quanto le cose e quindi essere liberati significa garantirsi la vita sì ma non la vita politica e quindi perché ci potesse essere vita politica bisognava uscire con una trattativa quindi anche questo smonta un'altra delle idee che è stata sempre al primo posto nell'interpretazione del rapimento Moro cioè che Moro chiedesse la trattativa all'italiana che è una cosa che mi fa molto rabbia e cioè perché tengo famiglia e quindi per la mia famiglia qui si tratta invece di una cosa più complicata quindi questo ci dice che certe garanzie sulla sua liberazione le aveva avute ma che la trattativa aveva però una sua valenza politica che rimaneva quindi la cosa è un pochino più complessa anche da questo punto di vista a distanza di 40 anni noi possiamo attraverso lo studio e l'interrogazione delle fonti arricchire e capire il senso di questo evento che però non è stato solo un evento in 55 giorni e in uno spazio nella Roma di quegli anni ma è invece un evento in profondità che ha le sue radici già nella Costituente nel modo in cui si è formata l'Italia repubblicana nella politica che Moro ha fatto in tutti in tutti quei 30 anni nel senso che ha avuto quella parte della politica italiana che lui rappresentava e che fuoriesce soltanto in quei 55 giorni in quel modo drammatico ma non sono non è un evento separabile dai 30 anni precedenti così come non è un evento separabile dai 40 anni successivi cioè dai 40 anni che hanno visto noi vivi e vegeti in questo nostro paese che vive anche si è poi formato e si è squassato per certi aspetti e ricostruito proprio in seguito a questo avvenimento io vi ringrazio dell'attenzione anche se non vi vedo e quindi vi prego di intervenire chi di voi vuole intervenire e di farmi sapere anche insomma se ci sono domande o approfondimenti da fare io sono sono disponibile abbiamo ancora un pochino di tempo per farlo Manfredi ti vedo sì sono un po' pazzo perché ti lasciavo la piena connessione e oltre il dominio pieno e incontrollato sulla connessione quindi senti intanto volevo ringraziarti moltissimo perché credo che questa sia stata un contributo veramente significativo all'interno delle nostre lezioni di questo corso e credo che sia pienamente corrispondente con le nostre intenzioni di legare un po' la disciplina storica ma anche alla formazione civile dei nostri studenti quindi rapportare in maniera diciamo meramente tecnica con delle osservazioni scientifiche con un metodo alle spalle per ricostruirle e soprattutto tutti questi legami che tu hai fatto fra diverse discipline e fra diciamo la capacità dello storico di lavorare come studioso e quindi credo che questo sia stato molto utile per tutti i nostri studenti e tra l'altro credo che ci saranno delle domande ci saranno delle domande sulla chat ma ti volevo anche molto ringraziare perché hai illustrato un'altra dimensione importante della storia cioè quella della lunga durata di come gli avvenimenti siano una delle fasi ma poi in realtà ci sono dei processi e quindi anche i giovani devono capire che non basta soltanto l'informazione ma bisogna ricostruire i processi con cui si si verificano gli avvenimenti e per ricostruire i processi bisogna analizzarli e così come gli ingegneri i matematici i fisici i chimici hanno una loro metodologia una loro tecnica come direbbero i greci cioè una capacità metodologica per costruire le loro ipotesi e le loro teorie anche gli storici fanno lo stesso e quindi questo è un prezioso contributo e c'è una domanda da parte di una studentessa che chiede dei lumi sulla grafologia e e su quanto possa aver influenzato la classificazione e immagino anche la cronologia delle delle varie dei vari documenti e credo che tu possa rispondere subito sì sì certo certo no è stata uno strumento essenziale io l'ho voluta in questo in questa ricerca quinquennale perché sono partito dalla 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 coscienza che una una sequenza di questi testi avrebbe restituito il tempo il tempo del prigioniero come l'ho chiamato nella nell'edizione critica e il tempo del prigioniero era fondamentale per capire il senso delle parole del prigioniero per entrare in quella zona oscura di cui parla appunto Italo Calvino e in questo senso la grafologia mi è stata io ho coinvolto la grafologa Antonella Padova che ha lavorato per quattro anni a questa documentazione ed è stata fondamentale abbiamo capito soltanto attraverso questo la grafologia ho scoperto perché io non sono un grafologo l'ho imparato ho imparato dalle cose che mi diceva appunto la nostra grafologa che lo studio non è lo studio della forma delle lettere ma è tutt'altro è lo studio di un'attività grafomotoria che è collegata anche a un approccio psicologico e neurologico persino e i legami i rapporti fra una scrittura non datata e la scrittura datata li ho potuti capire soltanto attraverso questo strumento che poi mi è stato spiegato grazie a questo abbiamo potuto avendo un riferimento fermo perché naturalmente un punto fermo sempre serve il punto fermo cioè della cronologia delle lettere abbiamo potuto vedere lì con chiarezza proprio nitida quanto in una situazione di quel genere l'attività grafomotoria muti radicalmente e profondamente questo naturalmente i grafologi lo sanno perché hanno studiato questo tipo di comportamento in altri casi simili in tutti i casi simili quindi questo tipo di sommovimento che è un sommovimento di natura umana capita anche a noi naturalmente quando il nostro stato emotivo muta il nostro modo di scrivere queste associazioni sono state uno strumento fondamentale per ricostruire queste sequenze abbiamo un'altra domanda per quale motivo lo stato non instarò una trattativa con le brigate rosse essendo comunque Moro un personaggio di spicco politico è una bella domanda certo questa è questa è una bella domanda ma diciamo che il motivo ufficiale per cui questo avvenne fu che una trattativa avrebbe comportato un riconoscimento politico dei soggetti che avevano rapito Moro questa fu la motivazione ufficiale Moro questo è uno di è un punto molto importante Moro si arrabbia molto per questo e lo fa dicendo una cosa che è esplosiva che per noi oggi che conosciamo certe dinamiche che erano avvenute negli anni 70 non lo è più ma nel 78 era esplosiva e cioè Moro scrive che la trattativa con il terrorismo l'Italia l'aveva sempre fatta prima e che quindi così come era stato fatto ed era stata fatta anche una trattativa molto pesante di cui oggi noi sappiamo Moro fa riferimento nelle sue lettere ma in qualche modo anche nel memoriale ma soprattutto nelle lettere una trattativa che c'era stata con i palestinesi dopo la strage di Fiumicino del 73 anzi prima della strage di Fiumicino e poi confermata dopo la strage di Fiumicino del 73 che fece molti morti cioè una trattativa in base alla quale i palestinesi avrebbero potuto trasferire le loro armi in Europa passando per l'Italia dall'Europa del nord da loro passando per l'Italia e in cambio non avrebbero fatto attentati in Italia questa trattativa era una trattativa segreta che allora era un segreto di Stato che poi oggi invece noi conosciamo è stata studiata ma che all'epoca era esplosiva e che avrebbe smontato completamente questo argomento l'argomento cioè secondo cui non si poteva fare una trattativa in realtà Moro questa cosa la sa la risolve da politico in un altro modo vi ho detto prima che il 29 marzo scrive due lettere una a Cossiga che chiede di tenere riservata e l'altra al suo segretario che chiede di tenere riservata la prima non fu invece tenuta riservata la seconda sì nella seconda lui lui spiega come si potevano fare delle trattative riservate e quindi è probabile che quelle trattative riservate invece ci siano state perché poi una trattativa con dei terroristi in ogni caso non la si fa mai pubblicamente cioè una vera trattativa con i terroristi nessun politico la fa sui giornali è una cosa piuttosto in realtà la drammaticità della situazione all'epoca non faceva ben capire che nessuna trattativa con una forza terroristica si può fare pubblicamente sui giornali sono sempre delle operazioni molto delicate e molto complesse Moro lo sapeva e quindi in sostanza chiede una vera trattativa e non è escluso che questa ci sia anche stata quindi è possibile che ci siano stati due diverse dimensioni il problema è che c'è un punto oltre il quale si sono rotti questi equilibri si sono spezzati questi equilibri e questo è ancora uno dei problemi dei nodi del sequestro Moro insieme è un secondo nodo che non è ben chiaro e non è stato sciolto cioè per quale ragione i suoi sequestratori che avevano scritto in un comunicato che tutto quello che sarebbe uscito da quell'interrogatorio sarebbe stato reso noto al popolo detto tra virgolette e così per quale ragione avendo in mano un documento di quella portata invece non lo abbiano mai reso noto e noi l'abbiamo potuto conoscere soltanto nel 1990 questo è un altro punto molto complicato nella storiografia c'è qualcuno anche che ha sostenuto ora siamo in fase di approfondimenti quindi le cose da dire sarebbero molte posso intanto così accennarne qualcuna nella storiografia esiste un'interpretazione del sequestro Moro secondo il quale secondo la quale gli ostaggi sarebbero stati due non uno uno era l'ostaggio Moro l'altro era il memoriale e cioè esiste questa interpretazione che da un certo punto in poi era più importante avere il memoriale che Moro esiste questa interpretazione nella storiografia io non mi sono posto questo problema non me lo sono posto in questi termini insomma perché ho lavorato secondo il modo in cui ho detto cioè credo che il lavoro sia quello di far domande al documento e alla e la fonte e farsi dare delle risposte dalla fonte la fonte al massimo ha detto quello che ho in breve sintesi spiegato però il motivo per cui poi dal 2 maggio in poi la situazione si è precipitata e il motivo per cui chi atteneva in mano questo documento non lo abbia usato come poi come prima aveva detto che lo avrebbe usato questo è questi sono due nodi che devono essere ancora sciolti nella interpretazione di questo di questo episodio della nostra storia grazie ci sono ancora diverse domande ma visto che hai parlato proprio di questo nodo forse potresti anche dirci se a riguardo diciamo negli interrogatori nei processi nelle diciamo nella documentazione giudiziaria abbiamo tracce di qualche risposta su questo punto da parte degli stessi brigatisti e dei carcerieri di Moro loro hanno dato qualche interpretazione poi anche su questa ovviamente esistono dei criteri di interpretazione ovviamente sì esistono alcune risposte che loro hanno dato non soltanto tra l'altro nelle indagini ma anche in una intervista a un lavoro bellissimo che fece Sergio Zavoli che è recuperabile anche in in rete che si chiamava La notte della Repubblica una serie di puntate con delle interviste di grande insomma potenza fatte ad alcuni dei brigatisti tra cui Mario Moretti sia in quella che secondo la verità giudiziaria era in quel momento colui che interrogava Moro sia secondo le cose che dice lui sia le cose che hanno detto altri carcerieri loro non compresero non compresero fino in fondo il senso delle cose scritte nel memoriale queste sono queste sono diciamo le giustificazioni dopodiché alla fine del sequestro Moro del sequestro Moro furono più occupati a non essere arrestati a non essere perseguiti che a fare l'attività che avevano detto che avrebbero fatto in realtà le Brigate Rosse hanno continuato ad agire molto dopo il 78 non è vero che hanno concluso la loro attività hanno agito anche dopo penso all'assassinio di Bachelet a diversi altri omicidi che sono accaduti dopo il 78 quindi questa è una risposta diciamo piuttosto discutibile piuttosto strumentale non comprendere quello che c'era scritto nel memoriale insomma oltretutto devo dire che la leggenda secondo cui il linguaggio di Moro sia un linguaggio oscuro non è così vera leggendo il memoriale nel senso che chiaramente per leggere il testo occorrono degli strumenti non è che si legge così facilmente però è un testo molto può sembrare strano questo aggettivo però è un testo molto bello nonostante la tragicità e l'oscurità della situazione cioè è un testo molto lucido molto nitido in cui certamente occorre poi fare un'interpretazione di quello che dice ma è chiaro che un'intelligenza ce la fa ecco quindi no penso che sia stato un fatto proprio strumentale e quindi probabilmente probabilmente hanno pensato di utilizzarlo il memoriale di utilizzarlo strumentalmente e non ci sono riusciti questo potrebbe già essere un'ipotesi di lavoro ma è appunto un'ipotesi di lavoro perché allo stato della situazione le loro dichiarazioni sono queste sono rimaste queste nonostante i 40 anni passati e hanno sostenuto di aver distrutto l'originale ecco vedi tu hai evocato più volte il termine potenza la potenza del documento la potenza anche delle domande che questo documento evoca e diciamo hai fatto la metafora del vulcano su cui il ricercatore lavora io credo che questa potenza sia diciamo stata percepita anche dai nostri studenti che continuano a fare parecchie domande te ne giro qualcuna intanto c'è uno studente che ci chiede perché secondo te le Brigate Rosse aspettarono il nuovo maggio per giustiziare Moro quando la condanna a morte è stata il 15 aprile credo che in parte avevi già risposto sì 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 beh dunque intanto c'è da dire questo che all'inizio loro dissero esplicitamente che non avevano nessuna che l'idea della trattativa era un'idea di Moro non era la loro e che non avevano nessun interesse a liberare nessuno in cambio di Moro questo loro lo avevo dichiarato nel comunicato col quale resero nota la lettera a Cossiga che non erano interessati a fare nessuna trattativa e che l'idea della trattativa era di Moro probabilmente questo dopo il 15 aprile dopo il 18 aprile soprattutto cambiò probabilmente perché l'episodio del 18 aprile è un episodio molto forte il covo di Via Gradoli fu scoperto la mattina del 18 aprile la mattina intorno alle 9 alle 10 e già alle 11 il telegiornale aveva dato una notizia una cosa del genere diciamo in una buona indagine non si fa non si fa perché lì c'era Mario Moretti avrebbero dovuto lasciare segreta questa informazione aspettare che Mario Moretti arrivasse in quella casa e poi seguirlo perché questo avrebbe dato più informazioni invece la notizia fu data immediatamente e poi arrivò il comunicato numero 7 nel quale si diceva che Moro era morto che era stato ucciso ecco una cosa molto importante che attesta che Moro continua a scrivere il memoriale dopo la condanna a morte è che Moro dentro il memoriale nella parte in cui lui scrive sulla libertà di stampa fa riferimento a questo lago della Luchessa cioè fa riferimento al comunicato nel quale si parla della sua morte e quindi l'ha scritto dopo chiaramente il 18 aprile e quindi in questo momento in quel momento lì qualcosa cambiò anche per le Brigate Rosse ovvero sembrava possibile anche l'accettazione della morte di Moro da parte del governo sembrava un'ipotesi che era stata messa in campo e nello stesso tempo anche che era possibile trovarli perché era stato trovato il covo di Via Graduli quindi in una situazione che per loro evidentemente questa però è una mia interpretazione in una situazione che per loro sembrò evidentemente più rischiosa e pericolosa quindi la disponibilità da parte del governo di accettare anche l'assassinio di Moro e nello stesso tempo la capacità di individuarli e di trovarli in questa situazione forse hanno pensato che giocare alcune altre carte poteva garantire loro una possibile fuoriuscita da questo sequestro non così pericolosa considerate che in Germania erano morti i membri della Bada erano morti in carcere e quindi probabilmente dopo il 18 aprile qualcosa è cambiato anche dal loro punto di vista nel senso che a quel punto la trattativa poteva effettivamente diventare anche un luogo una zona di interlocuzione diretta con il governo e anche quindi la possibilità di chiedere qualcosa quindi sicuramente è cambiato qualcosa perché prima del 18 aprile hanno dichiaratamente detto che non erano interessati ad alcuna trattativa dopo il 18 aprile questa situazione cambia quindi avere in mano lo stagio era importante in funzione della trattativa grazie tu hai appena accennato anche del rapporto con l'opinione pubblica delle reazioni che la stampa ha suscitato ci sono tre domande di diversi studenti che chiedono un pochino una tua valutazione di come queste fasi abbiano diciamo costituito una reattività nell'opinione pubblica e come questa possa essere stata utilizzata da entrambe le parti beh ecco su questo c'è un'interessante dichiarazione fatta da Anna Laura Breghetti che era una delle brigatiste secondo secondo quello che emerge dalla prima sentenza la prima sentenza è una sentenza relativa a ben due procedimenti il procedimento chiamato Moro 1 e Moro Bis che ha una sola sentenza in questa sentenza in questo procedimento lei fra le altre cose dice che furono molto colpiti dalla manifestazione che ci fu il 16 marzo il 17 marzo il 18 marzo in giro dalle varie manifestazioni popolari che ci furono a Roma ce ne fu una al Colosseo e una a San Giovanni subito furono molto colpiti dalla partecipazione a queste manifestazioni contro il sequestro in cui c'erano esponenti del partito comunista della democrazia cristiana del partito socialista dei sindacati i movimenti eccetera perché non se l'aspettavano ecco questa è una cosa molto molto interessante no? intanto questo significa che erano un po' fuori dalla realtà perché invece quello era qualcosa che era facilmente imprevedibile insomma no? e però che nello stesso tempo ritenevano perlomeno loro quelle persone lì di quella formazione in quel momento ritenevano che un gesto del genere avrebbe potuto provocare invece una reazione dell'opinione pubblica in loro favore e questo la dice lunga sull'importanza che essi stessi attribuivano poi agli effetti di massa gli effetti generali di opinione pubblica che quel fatto avrebbe potuto avrebbe potuto provocare sul quale evidentemente contavano perché ritenere essere colpiti da quella reazione popolare e vederla come un momento di debolezza loro è un dato che la dice lunga sull'importanza della reazione io su questo ecco sì questa è una cosa molto importante lo dice anche Moro quando parla della strage di Piazza Fontana come è stato detto anche da in altri casi ora non posso parlare qua della strategia della tensione ma l'importanza del funerale a Milano che avvenne il 15 dicembre del 69 cioè tre giorni dopo la strage di Piazza Fontana quel funerale plumbe o nero con 300.000 persone senza bandiere che stavano in silenzio totale davanti al Duomo di Milano quella quell'episodio lì fu importantissimo per ciò che poi accadde dopo cioè quel tipo di reazione dell'opinione pubblica diretta gli stessi protagonisti di quella di quell'episodio e le stesse formazioni politiche che poi è inerzo hanno provocato quella strage hanno hanno segnalato la importanza di quel tipo di reazione dell'opinione pubblica ma non solo dell'opinione pubblica ma anche di quel tipo di reazione diretta e vivace considerate che uno degli obiettivi della strage di Piazza Fontana noi oggi questo lo sappiamo in maniera chiara era lo stato d'emergenza da far dichiarare al governo Rumor e il governo Rumor non dichiarò lo stato d'emergenza militare e non lo dichiarò perché la reazione popolare di massa sarebbe stata pericolosa quindi la motivazione per cui Rumor non prese quella decisione era legata alle reazioni che si ebbero dopo quell'evento e Moro lo dice nel memoriale cioè segnala l'importanza della reazione ed è infatti molto attento anche ai giornali e al modo in cui i giornali riportavano le notizie quindi pensate è un fatto che mi ha molto colpito lui era molto informato di quello che i giornali scrivevano e giudica il modo in cui i giornali si sono comportati durante il suo rapimento quindi sulla centralità dell'opinione pubblica lui lo dice dice una cosa piuttosto sconvolgente lui dice in Italia esiste un problema di libertà di stampa sarebbe importante avere almeno 20-25 soggetti editoriali diversi questo lo dice della prigionia nel memoriale perché dice se ci sono 20-25 soggetti editoriali diversi allora si può esserci libertà di stampa se ce ne sono 5 o 6 pensate lui dice che 5 o 6 allora la libertà di stampa si riduce o addirittura entra in pericolo quindi capite la riflessione dentro il memoriale durante il rapimento di Moro arriva fino a questo livello cioè l'analisi anche della centralità dell'opinione pubblica nello svolgersi degli eventi e questo poi è avvenuto naturalmente anche durante il sequestro qui ci sarebbero moltissime cose da dire testimonianze su quello che accadde all'epoca e su cosa poi questo ha provocato nell'ambito dell'editoria dei libri della cinematografia del teatro dell'alteratura e in generale della costruzione dell'opinione pubblica ma insomma anche questo ci porterebbe via molto tempo ma è molto interessante ed è centrale e lui lo sa questo e se ne accorge e ne parla anche dentro il sequestro Michele grazie infinite abbiamo anche imparato un altro insegnamento importante che come diceva scherzosamente in una sua canzone Gaber la libertà e partecipazione quindi l'opinione pubblica e l'esercizio democratico è fatto anche di reazioni pubbliche e quindi di gesti simbolici come adesioni o non adesioni a delle delle manifestazioni o dei funerali o delle celebrazioni di qualunque genere che danno dei segnali politici e quindi la democrazia è un sistema complesso di significati e di modalità ed è giusto conoscerle tutte non è soltanto l'espressione del voto nel momento della cabina elettorale quindi questa è un'altra lezione importante che tutto questo discorso che è partito poi dalla costituzione italiana e quindi è perfettamente in linea con quello che è stato detto ci riporta anzi te ne ringraziamo particolarmente io credo che ci sono altre domande però siamo un po' fuori coi tempi e quindi cercheremo di creare altre occasioni del genere per poter approfondire visto che gli studenti sono veramente molto partecipi e ti ringrazio moltissimo per il tuo prezioso contributo poi ci risentiamo e ne riparliamo privatamente un saluto a te ti ringrazio anche io dell'occasione e ringrazio gli studenti dell'attenzione grazie a tutti